Argentina, Scaloni esaltato dalla vittoria della tira in ballo l'Italia. In Argentina Lionel Scaloni è diventato leggenda e non potrebbe essere altrimenti. È riuscito a regalare di nuovo la Coppa del Mondo ai tifosi che l'aspettavano da 36 anni. Dal 1986, quando c'era un certo Maradona in campo con la Seleccion, Buenos Aires ha dimostrato tutto l'amore e la locura possibile. Riempiendo con milioni di persone ogni angolo di città per celebrare il trionfo e trasferire la gratitudine a calciatori e allenatore. Ma Scaloni non è osannato solo dai suoi, ora non solo gli argentini mi fermano per strada. Anche molte persone dalla Spagna o dall'Italia. E sono felici per quello che l'Argentina ha realizzato. Ha rivelato il Citi a Radio Calvia. Una stima che non ha confini. Virgola.